Cerchiamo di capire la differenza fra la fusione e la fissione. Le nostre centrali, quelle che sono sparse per il mondo, funzionano a fissione nucleare. Tu c'è un neutrone che colpisce un nucleo pesante, uranio 235, lo spezza. Vengono liberati due nuclei più leggeri, altri neutroni ed energia. Questi altri neutroni funzionano da proiettile su altri nuclei e quindi avviene una reazione a catena. E come funziona la fusione nucleare? Quello che accade, che accade nella nostra stella, nel Sole, nuclei più leggeri si fondono per creare un nucleo più pesante, che ha una massa minore di questi due nuclei. E com'è Stacus? Come fa ad avere una massa minore? Perché una parte della massa se ne va in calore. Einstein è uguale a mc quadro. Una parte della massa diventa energia.